In questo mini servizio speciale parliamo di Sitting Volley, cioè il volley praticato da seduti. Se ne parla nell'ambito di una conferenza stampa per presentare l'evento di Montesilvano. Montesilvano il sabato 14 dicembre con un convegno sulla Sitting Volley e domenica 15 dicembre con la manifestazione al Palasenna di Montesilvano. Parteciperanno anche a livello dimostrativo le vecchie glorie della Nazionale Azzurra di Volley. Il Sitting Volley è l'unico sport in cui i normodotati e chi purtroppo normodotato non è sono sullo stesso piano. È uno spettacolo parlarne e ancora di più lo sarà vederlo. Ened Alonso è l'assessore allo sport del comune di Montesilvano ma con una particolare attenzione alla disabilità. considerata non come costo ma valore aggiunto. È bellissimo come concetto, poi si è messo in pratica come state facendo voi ancora di più. Sì, dici bene Paolo. Io a questo concetto voglio ringraziare chi come me sta condividendo, tipo il consigliere Fabio Vaccaro, il consigliere Daniele Scorrano e il sindaco Attilio di Mattia. Quindi vorrei dire un grazie di cuore a loro che veramente mi stanno aiutando in questo percorso e a divulgare questo messaggio. Noi ci teniamo a precisare che questa manifestazione viene fatta a costo zero, quindi veramente tutta questa agenda si muove per passione, per amore e per sensibilizzare tutte queste discipline che servono a battere tutte queste barriere dei diversamenti uguali. Grazie. Pierluigi D'Angelo è il presidente del CIP provinciale di Pescara. In conferenza stampa ha fatto capire che gli sport per i diversamente abili sono tutti possibili, alcuni ancora di più. Il sitting volley è uno di quegli sport che mette insieme nello stesso piano i normodotati e chi purtroppo normodotato non è. Tutti gli sport sono praticabili da persone disabili, l'importante è trovare il meccanismo giusto, l'adeguamento giusto per farli praticare. Il sitting volley, come dicevi tu prima, è uno sport che può essere praticato da tutti. Immaginate che ci sono società sportive in altri tagli che fanno attività sportiva poi di sale con i normodotati ma facendo sitting volley. Uno di questi è Ferrara che ha abbracciato il sitting volley ma lo fa con le persone normodotate. Pierluigi ci dai l'appuntamento per quello che succederà a Montesilvano nel fine settimana? Perché Montesilvano, il comune, ha abbracciato in toto la vostra proposta di portare il sitting volley qui sia a livello di parlato con un convegno sia soprattutto a livello di praticato con una manifestazione alla quale parteciperanno anche per dimostrazione le vecchie glorie della Nazionale Azzurra. Ringraziamo appunto il comune di Montesilvano che ci ha dato questa possibilità. Il 14 di sabato avremo appunto un convegno in cui i tecnici del CIP, come dicevamo al parolimpico, della sezione sitting volley spiegheranno a tutta la cittadinanza che può intervenire che cos'è il sitting volley. Poi avremo ovviamente la domenica dalle 9 alle 15 scusami alle 19 il torneo di sitting volley e poi le vecchie glorie che speriamo, cioè che ieri appunto abbiamo saputo che vanno a trovarci solo le ore 55.